la vostra borsa no, li mangi il pollo, che sono sbavati prendete pappagallino, ecco un seme orsu, adesso ditemi dove nasconde l'astro il vostro padrone malantunez? il grande malantunez è sceso agli inferi dammi i semi partendo dalla spagna verso l'est e giungendo dammi i semi all'impero del sollevante dammi i semi corpo di bacco, non me ne restano altri per le verghe del diavolo non so se il pappagallo volesse mostrarmi l'ubicazione del lastro dell'averno ma se non gli fornirò altri semi, continuerò a ignorarlo ricordo di averne vista una uguale nella caverna di una maga, ma quella è un'altra storia consumo piacere gettatelo dalla murata per quanto possa saltare non vi arriverei mai che cosa non darei io per i semi della vostra borsa non si tratta di un vaso qualunque, ma di una genuina sputacchiera minga sarebbe in vero divertente a giudicare dal rumore vischioso si direbbe che malantunes non la svuoti da tempo mi pare che vi si trovi una lingua di drago a sette code che fluttua in un anacronistico bagno di forma aldeide ho sempre provato una certa repulsione verso tali tipi di appendici elastiche ma infine alla mala parata posso sempre rivenderla permettete che vi importuni, Lady Camille come desiderate, Monsieur Brashan dunque state scrivendo le memorie di malantunes, eh? è così, Monsieur vostra grazia desidera sapere qualcosa sul suo oscuro passato non particolarmente, ma giacché siamo qui si dice che resto privo di un occhio per una questione di gonnelle anche io lo credo ma è un argomento scabroso su cui malantunes non conversa mai raccontano che si dedicò al commercio carnale con Malince concubina del conquistador Hernán Cortés e che costui volle estirpare il globo oculare del nostro capitano a mo' di punizione pure ne ho visti i ritratti in fogli licenziosi e su via la India Malince non era esattamente un fulgore perbacco, Miledi che mancanza di decoro la mia ho udito che il re Carlos di Spagna lo tenne in grandissima considerazione così fu di fatto l'Orion fu un regalo del re a Malantunes per servigi prestatigli poiché costui aveva catturato migliaia di schiavi caraibici affondato dozzine di navi inglesi e colmato l'erario della corona ma l'ambizione di Malantunes non si concluse lì presto abbandonò la lealtà patria per sentieri assai più proficui quali il tradimento e la fellonia il suo marcio lignaggio è stato comprovato? non lo credo anche se forse ciò spiegherebbe la fetidezza del suo alito secondo lui i Malantunes sono un'antica e nobile casta ma dopo aver a lungo ascoltato le sue falsità ho potuto raccogliere alcuni dati che odorano di verità il nome con cui fu battezzato era Ignacio Antunes a vilense di basso livello sociale che si imbarcò per le Indie in cerca di fortuna forse per evadere la giustizia spagnola dopo qualche sporco affare come ha ottenuto Malantunes la sua vasta fortuna? dopo aver servito in Messico agli ordini di Hernán Cortés intraprese una folgorante carriera commerciale a Veracruz che lo portò dalle piccole truffe al possesso della flotta mercantile più estesa della Nuova Spagna oltre a distruggere ogni nave straniera che attraversasse la sua rotta ciò che in realtà mi suscita ammirazione è che una donna sappia scrivere in questa età storica accadde che mio padre, il marchese di Le Bouvier decedesse senza discendenza maschile dunque mia madre mi fece passare per maschio per non perdere eredità e terre e come tale mi educò appresi a sommare, a leggere e a scrivere a lottare, a bere e a sputare fino a che la mia governante non informò le autorità dell'inganno dopodiché dovetti abbandonare la Francia per non essere imprigionata da quello giorno vagai di nave in nave travestita da ragazzo e arruolandomi in quante avventure desiderassi ma l'Antúnez non merita che perdiamo altro tempo conversando sul suo malvagio passato continueremo a parlare tra breve, Lady Camille è uno degli ultimi modelli apparsi sul mercato lo so perché nel precedente modello si osservavano più draghi e meno terre è ben risaputo che la vera terra non gira già che è il sole che le volteggia attorno ma con questo posso dilettarmi quanto desideri capitano! Wink che mi ha mangiato un braccio! sono le arcinote opere cartografiche di Piris Reis e Juan de la Cosa no, nell'interfetto ho queste medesime mappe è in stato notevolmente migliore no, nell'interfetto... il nome tecnico è Katana, se ben ricordo il tirante dai capelli paglierini sta montando la guardia ma per fortuna ha lo sguardo rivolto verso l'altro lato ho udito che gli spagnoli ingaggiano mercenari samurai ma pare che di questo non resti altro che il guscio no, già che tutto quel peso su di me finirebbe col distruggere la mia malconcia schiena siete tutti dei cani! c'è tanto modo della murata! prendiamo il toro per le corna e vediamo che cosa accade eh? come hai fatto a liberarti? io? liberarmi? che stupidaggine! non eri ai ferri? che io ricordi... no! inoltre quale senso avrebbe appostare un pirata tanto spregevole come te per sorvegliarmi se con i ferri fossi già stato impossibilitato a muovermi si suona logico ma non ha importanza è da tanto tempo che non faccio fuori nessuno ma l'antunez ha detto che voleva liquidarmi lui stesso in persona ordunque se mi fai fuori egli si infuria con te moledetta sia la mia sorte! hai vinto! rientra immantinente nella cabina o ti trasforma in un'attrazione da circo va bene ma solamente perché me lo domandi tu, eh? silenzio cane corpo di bacco, era ora di trovare alcuna utilità a questa bagatella funzionerà? comproviamolo ciò ha dovuto dolere recupererò la lingua di drago così nessuno saprà per quale motivo cane russo è scomparso dalla vista sì, mi rallegra recuperarlo soprattutto perché fa male più di quanto pesi spero che non gli colga vaghezza di risvegliarsi odotterrà un'altra percossa il poverino ha perso i sensi la cosa certa è che non ha ne manco un grammo di grasso e se mi risponde sono il re del manna! che schifo dentro c'è acqua e il peggio è che è pulita che cosa saranno quelle strane fenditure che circondano il pomo? d'accordo che cosa saranno quelle strane fenditure che circondano il pomo? ma quale prodigioso congegno è questo? per un mero soffio non mi ha infilzato un metodo dissuasorio tale può solamente significare una cosa lì dentro c'è qualcosa di prezioso già so dove soffiarmi il naso se ne avrò necessità nobile dama dovette essere colei che in tali tessuti si nascondeva perdiana sono un pirata non un... un... beh ciò che c'è di peggio dei pirati deve esserci qualcosa di peggio e che l'equipaggio al completo mi infilzi come un'acciuga? no grazie sì porterò all'estremo le precauzioni chiunque voi siate vi ho detto di attendere il vostro turno sulla rega di Amine ma siete il prigioniero congratulatevi con me compagno per le trippe di un tricheco siete scappato? voi stesso mi metteste i ferri credete che un inglese tanto gracile come me potrebbe liberarsene? avete ragione Diamine e cos'è accaduto dunque? il capitano mi ha liberato e mi ha fatto membro dell'equipaggio i miei più infami complimenti compagno e che tipo di cane è adesso vostra grazia? come? ma sì per tutti i tesori della tortuga con quale malvagio nome cagnesco vi ha voluto battezzare il nostro capitano? cane latratore poco morditore un buon nome Diamine a proposito io sono cane botte in che cosa posso esservi utile? cane latratore poco morditore che cosa fate qui seduto? svolgo il mio compito su Lorion sputare certificati a coloro che li necessitano sorvegliare l'entrata alle celle e distribuire la contrattuale razione giornaliera di Groga a tutti i cani bastardi di questo equipaggio a tutta velocità che tipi di certificati rilasciate? no io non rilascio nulla grazie alla mia buona stella ciò che faccio con i certificati è compilarli sputarci e timbrarli ce n'è di ogni tipo il certificato di igiene minima quello di parco traditore quello di casalingo frustrato quello di omologazione di pezze per occhi uncini e gambe di legno e superiore a tutti essi il certificato di pirata di bassissima moralità il Grog viene razionato? naturalmente Diamine oppure vostra grazia non ha udito lo slogan se bevi non navigare dunque ciascun membro dell'equipaggio ha diritto a una bottiglia quotidiana e solo una di buon Grog vostra grazia mi dì una brocca di Grog Diamine portatemi una maledetta bottiglia e ve la riempio velocemente ma prima siate tanto gentili da mostrarmi il vostro certificato di pirata di bassissima moralità dovrete fidarvi della mia parola perché temo di averlo lasciato nella mia dimora compagno noi pirati non abbiamo parola desidererei il certificato di pirata di bassissima moralità se ciò non vi molesta allora portatemi un modulo e io lo compilerò vi sputerò sopra e lo timbrerò con grandissimo piacere ma prima dovrete superare tre prove anche se non credo che tale impresa rappresenti un problema per la vostra disprezzabile grazia prima un pirata degno di tale nome giammai deve mostrare segni di compassione quindi dovrete commettere un atto di crudeltà estrema seconda un pirata non rispetta altra proprietà privata che la sua propria e a tale effetto dovrete portarmi una prova inconfutabile di furto e rapina terza ogni pirata che si rispetti deve conoscere i grandi maestri della pirateria quindi vi sottometterò a un semplice test sulla storia del malandrinaggio classico che tipo di atti considera vostra grazia come crudeltà estreme? basicamente consiste nello spacciare qualcuno farlo a cubetti strapparvi le papille le solite cose ma nel vostro caso giacché è fuori questione che massacriate alcun maledetto membro dell'equipaggio nella prigioniera cagna ragazza non lo so dovrete inventarvi qualcosa avanti con quel test di malandrinaggio cane botte iniziamo dunque prima domanda chi è stato il cuoco di bordo nel famoso equipaggio dello sventurato capitano Flint? Long John Silver sapevo che non avreste tardato a indovinare proseguiamo seconda domanda qual era il mestiere originario del capitano Blood? molto adeguato a chi sarebbe divenuto un sanguinario pirata medico ben detto aciderboli passiamo alla successiva terza domanda come fuggì il capitano Swallow dall'isolotto su cui abbandonò lo il maledetto capitano Babossa per la prima volta? inventando il Tortuga Surf come tutto il mondo sa quale astuzia vero? e pensare che c'è chi si azzarda ad affermare che venne salvato per puro caso da una nave di trafficanti di Roma? orsu adesso rispondete all'ultima domanda per mezzo di quale ingegnosa combinazione riuscirono i quattro pirati di Cava Lenticchia a prendere il Caribbean Express alla fermata di Isola Cece come? bene so che la domanda è difficile quindi vi narrerò gli antefatti all'inizio delle loro carriere i pirati con gamba di legno Henry Woblins Diego El Zoppo Sean David Leclopé e Joao de Passoromo non disponevano di una nave personale quindi si imbarcarono sul Caribbean Express diretto a Isola Cece nella cui cava l'enticchia trovarono la mappa del tesoro H94 856 da bravi pirati malvagi attaccabrighe litigarono tra loro per giorni e giorni fino a che la spossatezza li indusse a dividere la mappa in quattro pezzi e collaborare gli uni con gli altri l'ultimo Caribbean Express passava da Cece otto giorni dopo giacché in quel momento era mattina disponevano di otto giornate e mezza per arrivare alla fermata il problema era il fatto che durante la malandrina rissa avevano perso tre delle loro quattro gambe di legno decisero che sarebbero andati alla fermata a coppie uno indossando la gamba di legno e l'altro appoggiandosi a lui dopodiché uno dei due sarebbe tornato a cava l'enticchia con la gamba di legno perché un'altra coppia potesse recarsi alla fermata e così successivamente fino a che tutti non vi fossero giunti l'ordine in cui l'avrebbero fatto era assai importante perché alcuni di essi erano molto più rapidi di altri Henry Woblins si mise un sassolino nello stivale perché il fastidio lo obbligasse a camminare più rapidamente e ciò ancorché egli pesasse più che la grande balena bianca lo rese capace di percorrere la strada fino alla fermata in solamente mezza giornata Diego Elzoppo era abituato a correre e per quanto in questa occasione fosse vestito e non venisse inseguito da alcun cornuto infuriato poteva arrivare alla fermata in una giornata Jean-David Lecloppe si vantava di avere il passo più leggero di tutti loro ma aveva ingerito alcune bacche lassative che l'obbligavano a calarsi i calzoni ogni 15 passi quindi avrebbe impiegato due giorni e mezzo per arrivare alla fermata Joao Di Passoromo deteneva il record mondiale di inseguimento di Polly ma impiegava niente meno che 5 giornate per percorrere il tratto fino alla fermata ciò che dopo un violento accesso di fame si era divorato 5 delle 5 dita del suo unico piede vi riassumerò la situazione Henry Woblins impiegava mezza giornata per arrivare alla fermata Diego Elzoppo una Jean-David Lecloppe due e mezza e Joao Di Passoromo 5 disponevano solamente di una gamba di legno il Caribbean Express sarebbe passato 8 giorni e mezzo dopo e ciascuna coppia avrebbe percorso il tratto nel tempo necessario al più lento dei due or dunque quali due pirati furono i primi a giungere alla fermata? Henry Woblins e Diego Elzoppo e per farlo impiegarono una giornata e adesso ditemi quale di essi tornò a Cava Lenticchia con la gamba di legno? Diego Elzoppo con ciò giungete a un totale di due giornate non si agiti vostra grazia che sta andando bene quale fu la seconda coppia che camminò fino alla fermata? Joao Di Passoromo e Jean-David Lecloppe con ciò giungete a un totale di sette giornate e adesso ditemi quale dei tre pirati che erano alla fermata tornò a Cava Lenticchia con la gamba di legno? Henry Woblins con ciò giungete a un totale di sette giornate e mezza e già che in quel momento restavano a Cava Lenticchia Henry Woblins e Diego Elzoppo che necessitavano solamente una giornata per arrivare alla fermata del Caribbean Express riuscirono a giungere in tempo a salvare le loro vite a unire i pezzi della mappa a trovare il tesoro e a passare agli annali del malandrinaggio come i quattro pirati di Cava Lenticchia congratulazioni compagno avete superato il test di storia del malandrinaggio classico Sir Bacco si direbbe che Lady Camille stia insegnando a scrivere a tutto l'equipaggio vediamo che cosa dice questo si cercano partecipanti per amutinamento sanguinoso e segreto necessaria precedente esperienza gridare 675204AMUTIN alla porta del Club dei Traditori ricesta assoluta discrezione per Bacco si risveglia quel ragazzo ha un sonno di vero disturbato